buongiorno a tutti amici come va dal vostro modo iscritto se non siete iscritti con il canale iscrivetevi attivate la campanella eccetera eccetera e se vi fa piacere condividete questo video parliamo di shiba inu the best shitcoin on the world la migliore moneta del mondo guardate un po ragazzi poi parliamo anche di bitcoin però guardate un po vi ricordate cosa che ho detto shiba inu gambling io ero pronta a mettere 2000 dollari ok se tocca il fondo li metto non li ho messi ho fatto un errore ok ha fatto più un 45 per cento che in inglese si direbbe what the fuck man 45 per cento usiamo la fantasia chi ha messo un milione in shiba inu ha fatto 450 mila dollari chi ha messo 100 mila ha fatto 45 mila euro chi ha messo mille ha fatto mila dollari ha fatto 450 dollari what the fuck perché dovete vi consiglierò dei libri dove sapere che ho montato un video stamattina rispondendo un utente come avere successo nel business come lanciare un business però ci sta mettendo troppo tempo a caricare il video dura 25 minuti e ho parlato un po di shiba inu sappiatelo quindi non è che una replica ne stavo parlando poi ho detto faccio un video per chi mi sta chiedendo perché le persone si buttano come shiba inu ecco perché vi consiglio se volete diventare anche bravi trader studiate anche pnl pnl sta per programmazione neurolinguistica poi tutti che oggi che parla di pnl quando invece dean carnage l'avevo già stupito nei primi novecento l'aveva già capita e come trattare gli altri farsi l'amici era già una forma di pnl ok pnl un po che arriva il poliziotto le mettono muta non guarda sia un poliziotto ragione in questo caso non metto la multa sapere come ragiona con quelle persone perché il bitcoin ha fatto dopo tre mesi e mezza di merda ha fatto più un 10 per cento e più un 12 mentre shiba inu ha fatto più un 45 per cento perché questo accade perché dovete mettervi nelle nei panni del ragazzino che ha soltanto 100 dollari a 100 dollari dice ma io se compro un bitcoin cosa mi dà il 10 per cento dollari mi dà niente ok ma se io li metto nello shiba inu queste monete che possono esplodere fare il doppio possono diventare il doppio quindi a livello psicologico un utente più portato a investire in una shitcoin che ha delle idee che ha una rete altissima io l'ho detto shiba inu può fare un 10 per ma sappiate che se ha fatto 45 adesso fra un ritracciamento può fare anche meno 50 sappiatelo vi ricordo che fino a quando avevo delle notizie a farvi vedere ho chiuso le tab vabbè a momento magari l'ucraina non entra in guerra con la russia perché ci sono le olimpiadi abigini quindi sei russi chiano da però attaccare si attacca dopo e fammi togliere le olimpiadi e via quindi secondo me abbiamo un po di margine tempo per fare trading però cosa vuol dire adesso rispetto un tracciamento però voglio comprarlo giù 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 in basso ok a questo punto ragazzi aumenterò il tiro posto 2000 ci metto 5000 perché voglio dire sono le uniche monete quindi nella psicologia della massa io ho poco dove li posso mettere ma dai se li metto sui tiro mi dà un 5 per cento se li metto su bitcoin un più di sotto lì bitcoin sta facendo più un 3 per cento non un 10 è stata culo che dopo tre mesi ha fatto un 12 per cento mentre shibaino ha fatto più un 45 per cento non ve lo dico così a cazzo io vi ricordo al momento sto investendo non sono consigli finanziari soltanto in ada bitcoin e tiro cosa sto facendo sto sganciando le shit coin appena ragione non le sto svendendo io non lo stop loss sappiatelo appena raggiunge il prezzo a cui l'ho pagata la vendo e converto in liquida prendo questa liquidata la metto in un exchange la tengo pronta quando farò meno 10 meno 15 per cento però compro solo bitcoin ada o eterium ok queste tre monete perché nel caso in cui la russa dovesse entrare in guerra quelle al coin vanno a zero ricordatevi le parole di morrisat speriamo che non entri guerra speriamo che non accada niente eccetera 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 ok guardiamo per bitcoin guarda che qua anche facendo nasi tecnica doveva esplodere invece non esploso ha toccato i 43.700 le tasse di dole è sempre fermo lì per quello io non mi fido ecco perché gli ho detto usate lo stop loss nel caso io non lo uso ma non sto operando però se tu magari hai pensi che superando i 43.000 possa fare più un 7 per cento mettilo nel caso in cui scende tac bingo scatalo stop loss e vendete non avete avete ridotto i danni ok io lavorerei così però io non sto operando io sto solo vendendo le monete che avevo io stamattina ho fatto un'operazione piccolissima ho venduto degli eterium dove diavolo è cambiamo andiamo su eterium eccolo qua guarda un po ho venduto vedete 55 minuti fa ma poca roba però sto creando cassa liquidità e questa liquidità la tengo quando farà un bel dip perché mi sento che lo farà il dip quindi fate molta attenzione ma poi guardiamo le altre monete scusate guardiamo un po vedete eterium 4 bitcoin 5 ada 5 per cento quasi 6 dogecoin 10 per cento xtz più 5 dot shiba 45 40 bella soddisfazione questo è fare trading queste sono le soddisfazioni quando una moneta fa più 10 più 20 più 30 non quando fa una cazzo di mezza erezione più 2 per cento quella spazzatura ok per quello sto operando icp ha recuperato qualcosa solana per fortuna sta recuperando pian piano io ho comprato solana a 130 sterline ragazzi e per quello vi dico sappiate morire sono entrato alto benvenuti nel club perché molti vi dico no io faccio solo operazioni sto sempre guadagnando io prima ero sceso a meno 35 mila sterline adesso sono sceso a meno 20 ecco perché vi dico il bello di non usare lo stop lot che quando ricomincia un bull run recuperate buona parte siamo un mercato bull per me no assolutamente no io non mi fido conosco questi psicopatici quindi niente strano che adesso sembra sembra e poi domani ma ti fanno un 20 per cento son bastardi dentro dovete capire come questa gente malatta ragiona ok poi ovviamente come dico sempre speriamo che continua a salire così io continuo a vendere recuperare liquidità e mi tengo quella fortissima liquidità solo per fare un all in ma solo su bitcoin ada eccetera eccetera guardate un po 11 per cento questa cosa ha fatto 11 per cento ethereum ethereum cash la spazzatura con la moneta mi ha fatto perdere un sacco di soldi oh my god sta recuperando pian piano anche qui io sto perdendo soldi con omg io la chiamo oh my god ford un disastro 575 mio dio anche quella le sto sganciando nu ho comprato sto aspettando di sganciarla avevo comprato qualcosa sto aspettando di sganciarla sushi qualcosina sto aspettando di sganciarla questa tutta spazzatura sushi sono tutte shit come ragazzi matti un progetto interessante ha fatto più il 15 per cento matti mi ha sempre fatto fare i soldi comatti ci sono dentro con questa lo stesso wcfg però guardate vedete che il minimo l'unica la regina al momento che adesso su spazio è questa shit coin shiba inu 47 per cento ragazzi look at that salita al 40 squarate un po ovviamente entra adesso vuol dire farsi male ragazzi fate attenzione a shiba inu aspettate che faccio un ritracciamento è 47 per 48 per cento adesso what the hell riscita 47 70 incredibile anyway ecco perché dicevo comunque psicologicamente chi ha pochi soldi entra sempre però i 100 dollari di mario 100 dollari di andrea 100 dollari di francesco alla fine sono milioni 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 ecco perché vi dico l'unica moneta per salvarci un po il sedere era shiba inu non di certo bitcoin bitcoin a lungo termine fate una fase di accumulo però per per compensare i soldi che avete perso con altre monete shiba inu era uno tra i pochi progetti che ti poteva dare queste soddisfazioni e io ve l'ho detto anche mesi fa ok anyway ragazzi quindi cosa voglio dire speriamo che salga che esploda che faccia bitcoin altro 10 per cento sopra io non ci credo io non mi fido io spero ovviamente che esploda però io non sto operando sto soltanto sgacciando le altcoin più liquidità creo sto mettendo da parte dentro l'exchange così che ne so avrò 10 15 mila euro faccio un all in su una moneta interessante che ne so come il bitcoin quando fa un bel ritracciamento anyway spero che questo video vi sia d'aiuto ragazzi domani vedete l'altro video su come lanciare un business di successo volevo pubblicarlo oggi ma ci sta mettendo troppo tempo a caricarlo mori san vi mando un forte abbraccio se non siete iscritti ancora il canale iscrivetevi attivate la campanella se volete bene a mori san condividete questo video e mi raccomando non fatevi male ok bye bye dal vostro moriscripto